Ciao, bentornato sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina. Proseguiamo con la posta elettronica. Nel nostro corso di computer base stiamo iniziando a usare la posta elettronica. Bene, il momento più importante è quello che di solito non facciamo mai noi principianti, ma fa qualcun altro per noi male alla fine spesso. Come si fa ad ottenere un indirizzo di posta? Quindi vogliamo avere il nostro indirizzo di posta. Perché è un momento importante? Perché una volta che avremo questo indirizzo non potremo cambiarlo. Potremo farne un altro, se vorremmo, ma non possiamo più cambiarlo quell'indirizzo. Per cui cerchiamo di avere un indirizzo di posta giusto per noi, che ci piaccia e che quindi possa servirci sempre. Se lo sbagliamo, bene, meglio eliminarlo, meglio non usarlo da subito, piuttosto che usarlo per qualche mese e poi ripensarci e dirsi ma questo non mi piace più, perché in questi mesi lo avrai comunicato alla banca, lo avrai comunicato al CUP dell'ospedale, lo avrai comunicato ad amici, eccetera. Quindi poi cambiarlo di piunto in bianco non è semplice, anzi cambiarlo non si può e dovrai dire a tutti quanti no, quello lì non è più il mio indirizzo, adesso uso questo. Quindi partiamo bene, facciamolo giusto. Quindi vado in Google, vado ad aprire il mio browser Chrome, arrivo sulla schermata principale di Google e voglio avere una Gmail. Quindi adesso decido qual è il gestore di posta che voglio utilizzare. Io so già che voglio utilizzare Google e voglio una Gmail, quindi devo iscrivermi, devo farmi riconoscere, dire chi sono, scegliere un indirizzo di posta e a quel punto potrò utilizzarlo. Allora attenzione, siamo pronti a partire. Si parte qui in alto a destra, quindi da qui inizio a chiedere l'indirizzo di posta elettronica. Questa procedura si fa la prima volta, dopodiché questa cosa non si fa più e ho già la mia posta elettronica. Ora io questa cosa l'ho già fatta e quindi adesso se io arrivo e voglio guardare la mia Gmail, arrivo qui, premo su Gmail e la vedo. Quindi dalla prossima volta in avanti semplicemente entreremo in Gmail. Adesso vediamo che cosa bisogna fare per arrivare a questo punto. Quindi torno su Google, eccomi qua, e sono pronto a iniziare. Allora, devo fare attenzione qui in alto a destra. Se qui c'è un simbolo tondo o una foto, vuol dire che in quel momento lì è già inserito l'account, la registrazione alla posta elettronica di un'altra persona o la nostra ovviamente. E quindi qui nel mio caso c'è già un indirizzo di posta elettronica attivo inserito. Per poterne chiedere un altro, devo togliere questo. Quindi vado qui, ci premo sopra e dico esci. Attenzione che una volta che io sarò uscito da questo indirizzo di posta elettronica, per poterci tornare dentro dovrò digitarne la password. Se non la so, mi fermo qui, perché se esco poi non posso più entrare. Mentre invece se non la so e sono dentro, in qualche modo potrò gestire il mio account, potrò cambiare la password, potrò studiarci, ma non sono a piedi già in partenza. Però noi vogliamo creare un nuovo indirizzo di posta, quindi diamo per scontato o che il tuo computer è nuovo e non c'è nessun indirizzo, o che comunque tu da questo esci, quindi io dico esci, e adesso parto da zero per avere un mio nuovo indirizzo di posta. Qui dico continua perché voglio togliere il collegamento da tutto. Perfetto, sono pronto a iniziare. Sono in Google, l'azienda che mi fornirà la mia posta elettronica, la mia nuova posta elettronica Gmail, e ora dico accedi. Nel senso che per avere la posta elettronica io devo accedere a Google. Dico accedi. Ok, a questo punto lui mi dice accedi. Entra, digita qui il tuo indirizzo di posta elettronica e avanti così. No, non voglio digitare l'indirizzo di posta elettronica perché non ce l'ho, oppure perché quello che ho non mi va bene, ne voglio usare un altro, ne voglio creare uno nuovo, e quindi dico crea un account. Attenzione che potrebbe esserci un'altra situazione, ci potrebbe essere un'altra schermata che invece ti dice hai già un account, entra con quello, oppure accedi con un altro account. Quindi premerei, accedi con un altro account e arriverei in questa posizione. La cosa fondamentale di questa procedura è che noi dobbiamo arrivare a premere su crea un account, perché questo è il nostro scopo. Creare un account, creare un indirizzo email, creare un indirizzo di posta elettronica è la stessa cosa. Registrarsi è la stessa cosa. Quindi tutte queste cose significano ottenere un indirizzo di posta elettronica, un indirizzo email. Quindi creo un account. E ora iniziamo una procedura che non vogliamo e non dobbiamo imparare a memoria. Questa procedura si evolve nel tempo con l'aggiornarsi delle varie situazioni. Quindi adesso, da questo momento in poi, premo crea account e poi usiamo la nostra intelligenza per capire che cosa vuole e per raggiungere un risultato. Allora, chi è che deve avere questo indirizzo di posta elettronica? Perché lo fai? Per chi lo fai? Lo faccio per me. Ok? Quindi gratuito per la persona. Premo per me e a questo punto vado avanti. Benissimo. E ora mi chiede di inserire i miei dati. Questa è la parte principale, la cosa più importante. Allora, nome scrivo come mi chiamo. Scrivo Mario per fare un esempio perché io non completerò l'operazione. Quindi dico Mario, cognome Rossi e adesso scelgo la cosa più importante. Questo campo dove c'è scritto nome utente è quello più importante. Questo sarà il mio indirizzo email. Quindi il mio indirizzo email sarà quello che scelgo adesso qui chiocciolagmail.com Quindi devo scrivere una cosa giusta per me. Orecchiabile. Facile da dire. Se te lo dico al telefono, devi capirlo subito. Non devi chiedermi cinque volte come si scrive e poi magari lo sbagli. Perché se tu sbagli a scriverlo, io non ricevo l'email. E passiamo tutto il tempo a dirci te l'ho mandata, non l'ho ricevuta. Te l'ho mandata, non l'ho ricevuta. Quindi il nome deve essere semplice. Certo potrei usare Mario Rossi. Mi va bene, è semplice. Evita i trattini. Perché di trattini ce ne sono due. Allora, se io metto Mario intanto nome e cognome tutto in minusco. Se io metto Mario trattino rossi potrebbe essere così. Mario trattino rossi oppure Mario trattino basso rossi. Quindi i trattini assolutamente no. Non si va mai fuori da questa cosa dei trattini. Perché poi dovrei dirgli Mario trattino basso rossi. Oppure potrei fare l'inglesismo e dirgli Mario underscore rossi. Quindi significa trattino basso chiocciolagmail.com Attenzione che anche la chiocciola si può dire all'inglese at. Quindi Mario underscore rossi at gmail.com Ok? Facciamo attenzione a questi particolari. Quindi no, il trattino mai. Potrebbero proporvi una data di nascita. Allora, facciamo il caso che io scrivo Mario Rossi. Mario rossi gmail.com Premo qui dove c'è password e viene fatto ora un controllo della disponibilità del nome. Questo nome utente non è consentito. Riprova. Perché questo nome utente non è consentito? Perché già un'altra persona ha preso Mario Rossi. Lo ha preso per sé quel nome. Quindi non è disponibile. Non posso usarlo. E quindi devo inventarmi qualcosa d'altro. A volte ti danno anche dei suggerimenti. Almeno in passato ci davano dei suggerimenti. E magari dicevano Mario Rossi 85. Ora clicco fuori per vedere se va. Questo nome utente è già in uso. A quello di prima proprio non era consentito. Si vede che proprio il Mario Rossi dicono ma no, non è possibile che tu voglia Mario Rossi. Questo nome utente è già in uso. Provane un altro. Perché non mi piace il numero in un indirizzo e-mail? Primo perché è un po' strano. Ma perché spesso il numero è la data di nascita o l'anno di nascita e adesso magari non ti dà fastidio dire che sei nato nel 1985 ma tra dieci anni magari sì. Quindi evitiamolo in partenza. Tra l'altro la data di nascita è anche un dato sensibile per certe situazioni. Quindi non dirlo a prescindere è meglio. Quindi non dirlo nell'e-mail è meglio. Quindi lui dice qui c'è disponibile MR099611665 Ma no! Chi è che vuole un indirizzo e-mail così? Primo devi ricordartelo. Secondo l'altra persona deve scrivere. Non va bene. Allora potrei inventarmi qualcosa di nuovo. mario 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 gmail.com Vediamo se premo password. Utente già in uso. Provane un altro. Quindi qualcuno ci aveva già pensato. E via via così. Quindi devi trovare il giusto nome per il tuo indirizzo e-mail. Potrebbe avere senso se c'è disponibile nome e cognome perché comunque è un riservarsi un indirizzo e-mail importante. Non tutti possono dire ho il mio nome e cognome con indirizzo e-mail. Poi magari non lo uso perché non mi piace tanto dire il mio nome e cognome direttamente nell'indirizzo e-mail e ne uso un altro. Però considerando che ormai gli indirizzi sono difficili da ottenere come li si vuole può essere un'idea quella di riservarsi il proprio nome e cognome. Se c'è il mio nome e cognome allora mi prendo quello e vado avanti così. Va bene. Quindi qui dovrei trovarmi qualcosa. Ti ci lascerò pensare. Quindi dovrei studiarti un nome. Ah, una cosa importante. Ci sono dei nomi e cognomi tra l'altro qui avevo scritto anche male. Ci sono dei nomi e cognomi che mettono insieme due lettere uguali alla fine tipo vediamo Aldo Aldo Oriundi questo è un problema perché quando ti dico Aldo Oriundi chiocciolagmail.com vediamo se c'è ci sarebbe anche Aldo Oriundi la doppia O te la dico al telefono l'altra persona la sente o no? Devo dirgli Aldo Oriundi chiocciolagmail.com quando lui si trova a scrivere ci vanno le due O oppure no? In quel caso meglio metterci un punto Aldo punto Oriundi chiocciolagmail.com almeno si capisce bene che scrivo la O di Aldo e la O di Oriundi e non deve stare lì a spiegare tante cose e quindi ragioniamo su questa cosa una volta scelto il nome giusto ci occupiamo della password la password è piuttosto semplice devi semplicemente inventarti una parola da poter scrivere dentro attenzione che questa password per essere sicura dovrebbe essere abbastanza complicata quindi una parola che deve contenere almeno una maiuscola o almeno una minuscola per cui non tutto in maiuscolo non tutto in piccolo e deve contenere un numero e deve contenere un carattere speciale una chiocciola un punto esclamativo un cancelletto un qualcosa di questo genere di modo da renderla abbastanza difficile da indovinare per qualcuno più lunga è e più sicura sarà proviamo a inventarci qualcosa qui ce lo dice usa almeno 8 caratteri quindi deve essere almeno di 8 formata da una combinazione di lettere numeri e simboli tutto quanto e allora vado a scrivere armadio attivo il mostra password così la vediamo lui dava i pallini per una questione di privacy se c'è qualcuno lì con te tu non vuoi vedere quello che scrivi e vedi solo i pallini così non viene sbirciata da nessuno ma noi qui siamo da soli e quindi possiamo tenerla in vista allora scrivo armadio armadio e attenzione che devo inserire almeno una maiuscola non sono obbligato a fare la maiuscola di armadio magari è più facile ricordarsela però io potrei anche dire voglio questa A qui maiuscola per cui così armadio e poi un numero 74 tanto questo numero potrebbe anche essere la data di nascita meglio di no ma non si vede nessuno lo sa questa password del resto segreta la so solo io quindi armadio 74 e poi ci posso mettere un punto esclamativo o un cancelletto eccetera posso mettermi anche due volendo per renderla più difficile potrei anche dirmi guarda l'A di armadio la trasformo con la chiocciola quindi chiocciola che è comunque un A armadio 74 e basta la tengo così vediamo se è lunga abbastanza poi premo dall'altra parte e la confermo la scrivo nuovamente uguale in questo modo se sono in grado di scriverla due volte uguale vuol dire che so bene qual è la password che sto inserendo quindi vado di nuovo qua e scrivo armadio eccola la grande 74 ricordati che poi la dovrai scrivere deve essere difficile affinché sia complicato per altri scriverla e quindi leggerti la tua posta ma devi ricordartela anche tu e devi scriverla anche tu tutte le volte allora assolutamente sono vietati nomi di persone e quindi del coniuge dei figli dei nipoti del cane del gatto eccetera e sono evitate le date di nascita le date di matrimonio qualsiasi cosa sia riconducibile alla tua persona la squadra del cuore eccetera perché sono troppo facili puoi anche mettere inter o juventus eccetera nel nome però è troppo facile da trovare vabbè che ci vuole il carattere speciale vabbè che ci vuole il numero però se è proprio una cosa di fantasia meglio così e a questo punto devi premere avanti cosa che io non posso fare perché altrimenti chiedo nuovamente a google una casella di posta elettronica e sebbene se ne possa avere più di una non c'è un numero infinito a un certo punto google dirà vabbè basta quante indirizzi mail vuoi avere tu ne hai 5 ne hai 10 ne hai 15 basta adesso non puoi più averlo e quindi io non vado avanti perché se dico avanti consumo un indirizzo di posta elettronica che si chiamerà aldo.oriondi chiocciolagmail.com che a me non serve che a me non interessa nella schermata successiva ti verranno chieste due cose importanti ti verrà chiesto un numero di telefono da inserire un numero di cellulare di telefono da inserire mettilo perché quello ti servirà per recuperare la password se un giorno tu non ti ricorderai questa password che però oggi hai scritto in maniera ordinata in un luogo apposito in cui poi inserirai tutte quante le password perché il segreto per non perderla e per non avere problemi con le password è scriversela e scriverle tutte quante anche quelle future che avrai nello stesso posto in modo da poter andare lì e leggerla questo è il consiglio migliore che ti posso dare in tutto quanto il corso scriviti le password subito non tra 5 minuti quando hai finito la procedura adesso che sei qui che la vedi la scrivi e in questo modo sei sicuro di ottenerla ma se un giorno tu te la sarai dimenticata se hai fornito il tuo numero di cellulare nella schermata successiva loro ti manderanno un codice per accertarsi che sei tu tu dirai caspita mi sono dimenticato la password ok ti mandiamo un codice sul cellulare se tu ridigiti qui nel computer quel codice a posto sei tu e noi ti facciamo andare avanti e tu puoi sceglierti una password nuova quindi se non metti adesso quel numero di cellulare e se non lo metti comunque nei giorni successivi o nei mesi successivi quando ti dimenticherai la password non potrai recuperarla quindi è importante mettere il numero di cellulare mettilo adesso tanto non ti telefonano ma comunque se non l'hai fatto magari hai già la casella di poste e non l'hai fatto potrai successivamente andarlo a mettere l'importante è che tu lo metta prima di perdere la password se lo metti puoi recuperare la password se non lo metti è un guaio la seconda cosa che puoi andare a mettere se ce l'hai è un indirizzo email alternativo magari questa per te è la seconda email ne hai un'altra perché te ne sei creato un'altra per qualche motivo tuo lì in questa schermata puoi scrivere qual è il tuo altro indirizzo email così che magari il cellulare l'hai cambiato magari non funziona magari c'è qualche problema tu puoi dire senti mandami il codice via email mi sono dimenticato la password però mandami un codice all'altra email la sai perché te l'ho detta a suo tempo e loro ti scrivono là e tu accedi alla vecchia email e puoi recuperare la password senza problemi se non hai messo né il numero di cellulare né la seconda email sei a piedi non puoi recuperare le password quindi nella prossima schermata devi mettere tutte e due queste informazioni o una sola l'importante è che tu ne inserisca almeno una delle due devi attivare un'opzione di recupero password attenzione che come seconda email non è bene mettere quella del lavoro perché magari lavori per un'azienda o quella dell'università perché stai facendo l'università e quindi ti hanno dato una email personale perché quando finirai l'università perché quando cambierai azienda se cambierai azienda non avrai più disponibile quell'indirizzo email e quindi quando tu chiederai di recuperare la password quella non sarà più recuperabile perché va a finire il messaggio che ti mandano a un indirizzo email che magari non esiste più o che peggio ancora è nelle mani di qualcun altro tipo amministrazione chiocciola qualche azienda punto it e quindi non va bene devi mettere un altro tuo indirizzo email personale se non ce l'hai niente metti il numero di cellulare se proprio non hai il cellulare non vuoi metterlo e non hai un email personale chiedi a un familiare se puoi mettere la sua però sarebbe meglio proprio tenere disgiunte le cose però un familiare diciamo che è concesso e a quel punto una volta che dirai avanti avrai finalmente la tua casella di posta elettronica che potrai aprire e utilizzare tranquillamente bene questo video finisce qui ti do appuntamento ai prossimi video in cui andremo a parlare della posta elettronica nel frattempo metti un mi piace qui sotto trovi il pollice in su per dire mi piace trovi il pulsante iscriviti per iscriverti al canale ed essere avvisato all'uscita dei prossimi video e trovi il pulsante abbonati se ti va di vedere i video della serie speciale riservata agli abbonati ci vediamo presto ciao 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 ciao